Tra meno di un mese si dovranno presentare le liste per le amministrative dell'8 e del 9 di giugno. Diversi i comuni che andranno al voto. In alcuni, come ad esempio Bellizzi, i giochi sono fatti per quanto riguarda le candidature, mentre in altri mancano ancora i attori principali. Nel primo centro saranno tre i rivali per la corsa alla carica di sindaco. L'uscente Mimmo Volpe dovrà vedersela con lo storico alleato Nicola Pellegrino, che già da circa un anno ha lasciato la maggioranza, rimanendo però presidente del Consiglio. Il terzo è Angelo Maddalo, alla guida di una lista che rappresenta di fatto la minoranza degli ultimi cinque anni. La campagna elettorale è già iniziata, con i tre già ufficialmente in campo. Spostandosi di qualche chilometro verso i Picentini, c'è San Cipriano, dove un altro presidente del Consiglio se la vedrà col suo sindaco. E' il caso di Attilio Nadeo e Sonia Alfano, entrambi candidati. A loro dovrebbero aggiungersi anche Gennaro Aievoli, ex sindaco, e Massimo Zoccola. Quattro dunque le liste in campo. I primi due, al momento, sono gli unici certi, con l'ex primo cittadino Nadeo pronto ad ufficializzare la candidatura già giovedì sera. Tra i centri più grandi del territorio, anche Sarno, che dopo il terremoto amministrativo che è coinvolto l'ex sindaco Giuseppe Canfora, torna al voto, seppur a scadezza di mandato. Giovanni Cocca dovrebbe essere il nome del centrodestra, mentre a sinistra si punta su Francesco Squillante. A Nocere Superiore poi, dopo averlo annunciato in pompa magna come candidato a sindaco, il PD scarica il proprio candidato Bartolo Pagano. Un clamoroso colpo di scena che mette idem al centro delle polemiche, dopo il caso di Baronissi con Picarone. L'uscente Cuofano, a sua volta, sta lavorando per candidare Raffaella Dacunzi, la mamma. In quel di Capaccio Pestum, infine, sono due i candidati ad oggi, Carmine Caramante, direttore del periodico Il Commendatore, ed Emanuele Sica, anche egli presidente del Consiglio. L'uscente Franco Alfieri, nonché presidente della provincia, non ha ancora ufficializzato la sua candidatura, ma l'impegno per una seconda scalata a palazzo di città è cosa certa. Si sta lavorando per arrivare ad una soluzione per far fronte comune contro l'uscente, ma non c'è ancora nulla di concreto. Tra un mese le candidature, e fino allora tutto, anche ciò che ad oggi pare certo, può ancora cambiare.